Spesso i viaggi, come tanti fatti della vita, hanno un inizio lontano. Si preparano quasi inconsciamente dentro di noi, magari sfogliando un libro che parla di terre lontane, che fin da ragazzi ci avevano fatto sognare. La regione Himalayana è sicuramente una di queste, sia perché vi si trovano le montagne più alte del mondo, sia perché là vivono popoli per molto tempo poco conosciuti. Il Tibet mi ha sempre attratto, oltre che per il suo fascino straordinario, per il dramma che questo paese ha vissuto con l'invasione cinese del 1959. Volevo conoscere quei luoghi e quella gente prima che l'opera di demolizione sistematica della sua storia e della sua cultura fosse definitivamente conclusa. Arriva così il momento in cui non ci si accontenta più di leggere e di fantasticare. Non resta allora che fare la cosa più logica, maturata con il tempo. Bisogna partire. Eccoci dunque all'aeroporto della Malpensa, mentre attendiamo l'aereo che ci porterà a Doha, nel Qatar. A Doha ci accoglie un caldo soffocante e sono solo le 5 di mattina. Dalle vetrate dello scalo aereo, molto bello e ultramoderno, si intravede il deserto. Si ha l'impressione di essere in un'oasi. Dopo una sosta di tre ore partiamo per il Nepal e, dopo circa 5 ore di volo, si presenta sotto di noi la verde conca di Kathmandu. La stagione monsonica è ormai alla fine, ma qualche nebbia residua rimane ancora a ridosso della catena himalayana. L'impatto con la realtà di Kathmandu è molto forte. Bisogna mettere da parte i nostri parametri occidentali e accostarsi a questa umanità colorita e vociante con umiltà e disponibilità, soprattutto mentale. Altrimenti c'è il rischio di farsi prendere dall'ansia, complice anche la stanchezza del viaggio. Si fanno i primi acquisti sperimentando l'arte di contrattare dei nepalesi. Una bambina di nome Tara è riuscita a vendermi due medaglioni. È stata una commedia lunghissima e gustosa. Alla fine, come in una partita a poker, ha vinto chi sapeva bleffare meglio. Lei naturalmente. Facciamo umicizia con Ram, un giovane venditore di vestiti che scherzosamente ci chiamava papà Mauro e zio Beppi. Siamo nel quartiere di Svayambunat dove vivono tantissimi esuli tibetani, particolari che ipnotizzano il visitatore. Eccoci a Patan, una delle tre città imperiali, interessantissima dal punto di vista storico e architettonico. La nostra visita ci porta a Pasu Patina. Abbiamo l'occasione di assistere al funerale di un ispettore di polizia ucciso dai ribelli maoisti. Impressionante ma comunque suggestivo questo rito funebre induista. È arrivato il momento di lasciare il Nepal e di raggiungere il Tibet, meta del nostro viaggio. Ci avviciniamo velocemente alla catena himalayana. Uno spettacolo straordinario scorre davanti ai nostri occhi. Sbirciamo dall'oblò la zona dove atterreremo. Non più il verde del Nepal ma la severa aridità del Tibet. Siamo finalmente nel paese considerato il tetto del mondo. Ci accoglie Daria. Se grande è stata l'emozione nel vedere l'Everest, l'emozione di questo incontro tanto atteso è ancora più grande. Essere accolti da questa ragazzina che ci cinge il collo con una kata tibetana ci suscita un'emozione ed una commozione grandissime. Si parte per l'Asa. La prima cosa che colpisce appena arrivati in Tibet è la luce quasi accecante. Un cielo di un colore e di una nitidezza mai visti. Nonostante l'aria frizzante il sole brucia letteralmente. Costeggiamo lo Yarlung Tsampo dove si possono vedere ancora le barche costruite con le peli di yak. Lungo la strada incontriamo una grande pittura rupestre che rappresenta il Buddha. Secondo la tradizione tibetana queste pitture sarebbero apparse da sole. Il primo incontro con la gente tibetana. Ci piace ascoltare Daria mentre dialoga con loro. Sono stupiti nel sentirla parlare la loro lingua. Ci avviciniamo all'Asa ma ci sembra quasi di essere sulle montagne di casa in fondo alla vallarsa sotto le guglie delle piccole dolomiti. Non ci sembra vero ma stiamo viaggiando a circa 3.700 metri di quota. L'Asa ci accoglie con l'emozionante splendore del Potala il maestoso complesso un tempo residenza principale del Dalai Lama. Ecco una panoramica della città. Dopo l'invasione del 59 l'Asa è stata progressivamente trasformata dai cinesi in una distesa di edifici moderni di pessimo gusto. Solo il centro storico che gravita attorno al Jokang è ancora relativamente conservato ma l'opera di trasformazione continua inesorabile. Dopo esserci sistemati in albergo girovaghiamo per l'Asa. Visitiamo il Barcore, lo straordinario mercato che si snoda attorno al Jokang. Tocchiamo con mano la religiosità di questo popolo. Moltissimi pregano facendo girare in senso orario i tipici mulini che contengono un rotolo di carta sul quale sono scritte le preghiere. Lungo il percorso che in tibetano si chiama Kora incontriamo dei Chorten, una specie di camini sui quali i passanti bruciano incenso ed erbe aromatiche, come offerta alle divinità. I pellegrini più devoti compiono la Kora con continue prostrazioni. Non è raro imbattersi in scene come questa, uno dei tanti segni della modernizzazione portata dai cinesi o in attività antiche come la concia delle pelli. Vicino al nostro albergo si trova la moschea, luogo di culto della numerosa comunità musulmana al Asa. Almeno nelle città l'attività di macellazione è quasi completamente svolta dai musulmani, mentre nelle comunità rurali questo compito spetta ad un tibetano che per tradizione familiare lo fa dimestire. Qui i ritmi di vita non assomigliano certo ai nostri. Daria ci porta a visitare quello che resta dell'antico monastero di Shide. Non si comprende perché i cinesi non l'abbiano raso al suolo completamente, come la quasi totalità degli altri, pur essendo in pieno centro al Asa. Abbiamo modo di osservare questo ingegnoso sistema per far bollire l'acqua concentrando i raggi del sole. Siamo nella piazza del Jokang, il luogo più significativo di Lhasa. Davanti a questo tempio i pellegrini più devoti si prostrano 108 volte o per i suoi multipli. Siamo nel cortile di quello che è considerato il centro del buddismo tibetano, brulicante di pellegrini e ricco di mistero. Il grande pentolone in bronzo ricorda il passato quando in questa struttura religiosa vivevano molte centinaia di monaci. Ammiriamo le bellissime pitture murali. Come i pellegrini percorriamo la core interna facendo girare l'innumerevole serie di murini di preghiera. Ci portiamo sulla terrazza circondata da bellissimi tetti dorati. Osserviamo emozionati il balcone dal quale si affacciava il Dalai Lama. Sono particolari architettonici e ornamentali di eccezionale bellezza. Sulla targa, sotto la campana, una preghiera mossa dal vento. Abbiamo la fortuna di assistere ad una scena veramente rara. Un gruppo di giovani, ragazzi e ragazze, sta eseguendo il lavoro di impermeabilizzazione di parte del tetto. Con i piedi e con dei pestelli battono l'impasto steso sulla terrazza e lo compattano. Assistiamo così ad una specie di danza durante la quale, sull'onda di una suggestiva cantilena, si intreccia a quello che potrebbe sembrare un dialogo fra maschi e femmine, con un susseguirsi di domande e risposte veramente emozionante. Sotto di loro, intanto, inizia il cosiddetto dibattito filosofico, uno dei rituali più importanti della vita dei monaci. Si svolge a piccoli gruppi. Il monaco più anziano rivolge agli allievi delle domande in rapida successione, alle quali i discepoli devono rispondere con altrettanta rapidità. Sul viso dell'allievo si alternano le espressioni più diverse, che riflettono il suo stato d'animo. Dalla terrazza del Jokan si può ammirare in lontananza il Potala, prossima meta della nostra visita all'Asa. Volutamente ho scelto questa inquadratura. Volevo rappresentare simbolicamente la sottomissione della millenaria civiltà tibetana alla prepotenza cinese, che quotidianamente ne svilisce e ne banalizza la storia. Iniziamo la visita a questo edificio simbolo, senza dubbio una delle meraviglie dell'architettura orientale. Con un'ampia scalinata si accede a questo complesso di dimensioni imponenti, un luogo che incute una sorta di timore. Accompagnano il percorso del visitatore, preghiere e mantra scolpiti su lastre di Ardesia. Come in tanti luoghi molto frequentati, i bambini attendono i turisti. Mauro non sa resistere alla loro simpatica curiosità. Superata la porta d'entrata, cogliamo subito l'imponenza e lo splendore di questo edificio. E' bello osservare con quanta devozione i pellegrini si accostano a questo luogo sacro. Famiglie intere, venute da chissà dove, portano offerte in denaro e burro di yak per alimentare le lampade votive. L'emozione più grande l'ho provata osservando la stanza da letto del quattordicesimo Dalai Lama. Dicono che si è rimasta come allora. C'è ancora il suo orologio accanto al letto. Girare per il suo palazzo mi ha fatto tornare alla mente i racconti di Harar in sette anni in Tibet. Lo spettacolo che si gode dal tetto è di quelli che non si dimenticano. Tetti dorati luccicano sotto un sole abbagliante. Colgo da lontano un momento di preghiera di un monaco assorto nella lettura. Scendendo dalla scalinata opposta possiamo osservare l'asa dall'alto. Un tempo ai piedi del Potala c'era il villaggio di Seul. Al suo posto c'è ora una piazza pubblica stile Tiananmen. Il quartiere tibetano è oggi un enclave isolata al centro della città e occupa una piccolissima percentuale del territorio di l'asa. L'asa probabilmente è cambiata più in questi ultimi trent'anni che nei mille precedenti e immaginiamo quanto cambierà d'ora in poi considerato che la ferrovia Pechino-Lasa è stata ultimata. Continuiamo a scendere. Stagliata contro il cielo si erge una delle tre colline sacre di Lhasa. Prima dell'invasione cinese là si trovava l'antica scuola di medicina tradizionale tibetana. È stata rasa al suolo e al suo posto c'è ora un'antenna per le telecomunicazioni. Diamo un ultimo sguardo al Potala e continuiamo la nostra visita a Lhasa. Siamo arrivati ormai da qualche giorno e ci stiamo gradualmente acclimatando. Daria ci propone di fare un'escursione al monastero di Pabonka, un piccolo complesso monastico arroccato sulle pendici della montagna. È la prima vera salita che affrontiamo in Tibet e sarà per noi un piccolo test per verificare il nostro acclimatamento. Camminiamo da soli lungo il sentiero. Non incontriamo nessuno. La totale assenza di turisti ci fa provare quasi un senso di esclusività e accogliamo questo privilegio come un dono prezioso. I monaci ci accolgono come amici e ci portano a visitare le stanze del monastero. Osserviamo la biblioteca che conserva i testi sacri. Visitiamo una grotta di meditazione. Dal soffitto di roccia pendono le offerte in denaro attaccate con il burro di Yak. Proseguiamo il cammino e incontriamo i ruderi di un altro monastero. Nella parte rimasta vivono ancora tre monaci. Arriviamo a questa roccia chiamata la tartaruga. Il vento muove le lungtà, le bandierine e porta con sé le preghiere dei pellegrini. Lungo il cammino incontriamo un gruppo di monaci e monache, con i quali facciamo un pezzo di strada. Dicono a Daria che sono diretti ad un piccolo monastero che si trova molto più in alto. È impensabile, almeno per noi, tenere il loro passo. Dopo un po' li salutiamo e ci concediamo una piccola sosta. Dopo quasi due anni di permanenza in Tibet, Daria ritrova i sapori del grana e dello spek. Passiamo accanto ad un eremo dove vivono alcune monache. Qui abbiamo l'occasione di vedere, esposta su un altarino, una foto del Dalai Lama, l'unica che abbiamo visto durante la nostra permanenza in Tibet. È stata un'emozione grandissima. Attraversiamo il fianco della montagna e raggiungiamo il monastero di Seratse. Ora il sentiero comincia a scendere, passando attraverso degli enormi massi che sembrano dover cadere da un momento all'altro. Un ambiente interessantissimo dal punto di vista geologico. Siamo ormai sopra il monastero di Sera, uno dei più grandi del Tibet. Un tempo qui vivevano cinque mila monaci. Ora ne sono rimasti cinquecento. I giorni trascorsi a Lhasa sono serviti per organizzare la nostra piccola spedizione al Monte Kailash. Non è stato facile. Daria e Stefania si sono date veramente molto da fare. Qualunque spostamento in Tibet è subordinato ad un permesso. E per andare alla montagna sacra, di permessi ce ne vogliono ben cinque. Questo sarà il nostro viaggio. Fra andare e tornare saranno quasi 3000 chilometri di strada. Ho detto strada perché allora pensavamo si trattasse di strade, almeno così ci sembravano sulla cartina. È la mattina del 26 settembre e finalmente si parte. Dopo qualche ora la strada asfaltata lascia il posto ad uno sterrato ancora accettabile. Inizia a scorrere davanti a noi un paesaggio di una suggestione incredibile. Grazie a tutti. Questi luoghi hanno un fascino che non finisce mai di stupire. Spassi e distanze immense che lasciano senza fiato. Continuiamo a valicare passi vicini ai 5000 metri e dietro ogni passo è un'esclamazione di meraviglia. Si legge sulle montagne la storia della terra. Cenge corrugate sulle quali gli yak selvatici si arrampicano come kamoshi. Questi animali, anche quelli domestici, hanno una loro fierezza. Sono veramente uno dei simboli del Tibet. Bisogna comunque avvicinarli sempre con una certa prudenza. Dopo una lunga giornata di viaggio ci fermiamo in un piccolo insediamento. Ancora una volta Mauro soddisfa la curiosità dei bambini. Poco più in là possiamo osservare una macelleria a disposizione dei pochi viaggiatori che transitano su questa strada. I bambini ci osservano, un po' curiosi, un po' intimoriti. in queste regioni si comincia subito a rendersi utili. Guai rimanere a secco su queste piste. I tibetani però non hanno di questi problemi. Si fa sera e arriva il meritato riposo. Si tirano le somme della giornata, si manda mentalmente un pensiero a casa, si suona l'armonica e a volte, da buoni trentini, si canta. Dopo una salutare dormita riprendiamo il viaggio. È sorto da poco il sole. Branchi di antilopi ci corrono a fianco. Superiamo un altro passo attorno ai 4800 metri. Non possiamo fare a meno di fermare la nostra Jeep davanti ad una scena così suggestiva. Questa tenda dei nomadi è di tipo tradizionale. Potrebbe corrispondere alla descrizione di un esploratore come Tucci o Alexandra David Neal, tanto è rimasta immutata nei suoi caratteri essenziali. È ottenuta con pelo corto di yak, prima battuto, poi filato e tessuto con il telaio a mano. Poco più in là si raccolgono piccoli arbusti e sterco di yak secco per accendere il fuoco. Si mungono le capre dopo averle legate in questo modo veramente originale. in questo modo. Arroccato sopra uno sperone roccioso, un monastero sta nel suo silenzioso isolamento. Proseguiamo attraverso questi spazi infiniti di una bellezza che incanta chi li percorre. a sud ovest ci accompagna in lontananza la catena himalayana. Valichiamo ancora un passo e subito dopo ancora l'infinita vastità di questo immenso altipiano. Oggi tanto la strada bisogna anche cercarsela. Arriviamo sul Ton La, un passo a quasi 5.000 metri. È costellato di centinaia di piccoli ortam di sassi costruiti dai passanti. Un tipico stupa tibetano, una specie di piccolo tempio. Una delle poche, rarissime abitazioni incontrate. Ci sorpassa un camion carico di pellegrini. Anche loro, come noi, vanno alla montagna sacra. Mano a mano che ci avviciniamo alla regione del Kailas, il paesaggio diventa sempre più arido. Gli animali più presenti sono ora le pecore e le capre, più adatte a questo tipo di ambiente. Il nostro infinito viaggiare ci conduce ad un certo punto ad un accampamento di nomadi. Abbiamo modo di osservare la fierezza e la dignità di questa gente, la loro istintiva cordialità, la loro gioia nel rispondere puntualmente al nostro Tashi Dele. Una tipica e misteriosa bellezza tibetana. Salutiamo questo popolo colorato e riprendiamo il nostro viaggio. Grazie a tutti. Se ne sta andando un altro giorno e i pellegrini si fermano per accamparsi. L'ultimo sole illumina la catena himalayana. Abbiamo concluso un'altra lunghissima tappa. Siamo a quasi 4800 metri, ma l'appetito non manca, anche se si mangia sempre la solita zuppa aliofilizzata, con l'aggiunta di tsampa, la tipica farina di orzo tostato. Riprendiamo il viaggio, affrontando l'ultima tappa che ci condurrà fino al lago Manasarovar. Lungo la pista alcuni avvoltoi banchettano con resti di animali morti. Dopo alcune ore attraversiamo una zona quasi completamente desertica. Grandi dune si alzano ai lati della pista. Sullo sfondo corsi d'acqua e laghi e, all'orizzonte, la catena himalayana. È un contrasto esteticamente formidabile. Dopo quasi 1200 chilometri di scossoni e sobbalzi, a volte violentissimi, la stanchezza comincia a farsi sentire. Sono le 5 di sera e finalmente siamo arrivati al Mayum La, 5150 metri, l'ultimo passo che ci separa dal lago Manasarovar. Dopo aver fatto una cora di ringraziamento attorno al palo delle preghiere, posiamo per una foto ricordo, nel luogo dal quale possiamo ammirare quello che per mesi è stato l'oggetto di nostri pensieri, delle nostre aspettative, delle nostre speranze. Non ancora vicino, ma perfettamente visibile nella sua inconfondibile sagoma, ecco laggiù il Kailash. È un'emozione grandissima. Anche i pellegrini stanno per arrivare alla meta. Il loro viaggio non è stato certo più agevole del nostro. Solo vedere la montagna sacra li ripaga però di ogni fatica. Mentre scendiamo verso il lago Manasarovar, dove passeremo la notte, mi giro e fisso questa immagine. Sento che il Kailash ci osserva benevolo. In Tibet si dice che la montagna non si mostri a tutti. Soltanto chi possiede un buon karma avrà durante la sua vita la possibilità di poterlo ammirare. Andremo a passare la notte sulle rive del lago Sacro, in Manasarovar, nel quale si specchia il Gurla Mandata, una montagna di 7.728 metri. I pellegrini si accampano, passeranno la notte avvolti nelle loro coperte, affrontando temperature che raggiungono ormai parecchi gradi sotto lo zero, anche se siamo solo a fine settembre. La mattina dopo si parte per Darcem, un villaggio piuttosto brutto, dove però bisogna fermarsi per gli ultimi preparativi. È un momento emozionante e tanto atteso. Finalmente si parte. Non sembra vero. Dopo tanti giorni di jeep è arrivato il momento di sgranchirsi le gambe. Ci accompagnano e ci superano file di pellegrini che come noi iniziano la cora. Arriviamo così alla piana di Tarpoce, dove ogni anno il palo delle preghiere viene sostituito. A seconda dell'inclinazione che assumerà, si potranno trarre gli auspici per il futuro. Passiamo accanto a questa roccia che, si dice, porti in pressa l'orma del Buddha. Sotto il monastero di Chukku, accanto al torrente, piantiamo le nostre tende. La regione del Kailas è un posto veramente magico. Non è casuale il fatto che in tutta l'Asia sia considerata il luogo più ricco di spiritualità e di energia. Grazie. 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 Sopra di noi due pellegrini stanno scolpendo nella roccia le loro preghiere, in mantra. Il più conosciuto dei quali è Omani. Padme Um. Dall'alto un grande voltoio ci osserva. Poco al di là del torrente, le marmotte lanciano i loro fischi di avvertimento. Comincia a fare freddo. Dalla tenda osservo il Kailas, illuminato dall'ultimo sole. Fuori i pellegrini si accampano per la notte che, come sempre in Tibet, scende molto velocemente. E' la mattina del primo ottobre e si parte per la seconda tappa della Cora. Nonostante il sole fa piuttosto freddo e il torrente è quasi completamente gelato. C'è anche qualche pellegrino che compie la Cora prostrandosi in continuazione. Ci viene spontaneo chiederci quanto impiegherà a compiere questo giro di 53 km. Lungo il sentiero osserviamo la seconda orma del Buddha. Nonostante siamo ormai vicini ai 5000 metri, c'è ancora un po' di fiato e Mauro dirige il coro. Forse il Kailas non ha mai sentito queste strane melodie alpine. Ci superano i nostri yak. Ci aspetteranno al termine della tappa. Ora il Kailas si mostra in tutta la sua bellezza, con un'impressionante parete nord. Siamo oltre i 5000 metri e qui passeremo un'altra notte. è l'alba del 2 ottobre. Pellegrini tra pellegrini, partiamo la volta del Drol Malà, il passo più alto della Cora. L'emozione è pari alla fatica. Per me questa salita è stata veramente un grande bagno di umiltà. La fatica è stata un'altra notte. Secondo un antico rito propiziatorio, c'è chi scavalca questo grande masso. Le preghiere sul Drol Malà ci danno il benvenuto. Siamo a 5.672 metri. Anche noi mettiamo le nostre, pensando a chi ci ha più caro. Come vuole la tradizione, si lascia sotto la neve del passo qualcosa di molto personale. Non dimenticheremo mai questo luogo e questo momento. Una piccola cerimonia. Prima di partire, consegniamo ad Aria il distintivo della Sat. Se l'è veramente guadagnato. Ora però bisogna ripartire. Sotto il passo, come un grande turchese, ci appare il Guri Kund che in tibetano significa lago della compassione. Dopo la grande fatica del Drol Malà, questo luogo rappresenta il simbolo della rinascita. Scendiamo in compagnia di alcuni tibetani e di un cane che sta con noi per tutta la strada. Dovremo percorrere tutta questa immensa vallata. Camminiamo per ore e ore. Ognuno assortano i suoi pensieri. C'è però un pensiero che puntualmente cacciamo via. Ed è quello della possibilità, peraltro reale, di avere qualche incidente, qualche problema. Nell'ipotesi di un malore serio, in questi luoghi non esiste la possibilità di essere soccorsi. Bisogna solo sperare di stare bene ed essere pronti ad arrangiarsi con i propri mezzi. Ma, come dicevo prima, il Kailash ci è stato amico e tutto è andato per il meglio. Dopo aver pernottato, prima di ripartire, visitiamo il piccolo monastero di Zutulpuk, considerato dalla tradizione uno dei luoghi di meditazione di Milarepa. Riprendiamo il nostro cammino che ci porterà alla conclusione della Cora. Anche i pellegrini sono ormai alla fine del percorso e si concedono un po' di riposo. Probabilmente...